Naim Golan, o anche chiamato con il nome di Evo Ninja, 35 anni d'età, pensate che si starebbe o meglio si sarebbe offerto a José Mourinho attraverso un contratto a Gettoni. Il famoso centrocampista di origini berghe, svincolatosi dopo la parentesi alla SPAL, in un'intervista che di recerta rilasciata ha fatto sapere di sentirsi all'altezza di una squadra importante, di una squadra di Serie A, facendo sapere che la sua voglia sarebbe effettivamente parlando quella di offrirsi a José Mourinho anche un contratto a Gettoni proprio quindi con la Roma. Trebbe calcistico, ovviamente, di Serie A. Chissà se Gourinho accetterà l'appello o meglio il proporsi di E-Ninja, ossia di Naim Golan, in qualità di eventuale personaggio calcistico, non si sa. Ai posteri l'ardo sentenza. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, certo è che Naim Golan è un personaggio di punta del calcio giocato. Iscrivetevi, commentate, ciao da Reandro, narrato italiano.